E' stato drammatico. Mio padre morì, fu una morte lenta e dolorosa per cancro. Io avevo sedici anni e amavo molto mio padre. Correvo all'ospedale tutti i giorni dopo la scuola e mi sedevo accanto a lui a fare i compiti. Lui era imbottito di sedativi. Le ultime settimane entrò in coma. Un giorno ho creduto di sentirgli dire qualcosa e allora mi sono chinato su di lui, mettendogli l'orecchio quasi alle labbra. Hai detto qualcosa, papà? E ho udito la parola che disperatamente cercava di dire. Solo un bisbiglio stava dicendo. Terribile. Terribile. Così la fine era terribile anche per la gente buona come mio padre. Quindi lo scopo delle nostre sofferenze era alta in sofferenza. Dopo qualche ora avevo eliminato del tutto Dio e non ho mai più avuto visioni. Così la fine era la fine delle mie per la gente. E' un'altra via.